La Liguria si tinge di rosa per la grande opportunità di questa stagione ciclistica con la presentazione ufficiale della seconda tappa del 98esimo Giro d'Italia in partenza da Albenga. Ad essere in fermento però non è soltanto la città delle Torie e i nastri di partenza al prossimo 10 maggio, ma tutto il comprensorio che sostiene la causa in Gauna con orgoglio e partecipazione. Intendo Alassio, L'Aigueglia, Andorra, Finale Ligure e Villanova insieme a noi hanno deciso di non perdere un'occasione che la regione ci aveva concesso e quindi insieme stiamo riuscendo a portare avanti un evento che credo che possa veramente dare una svolta alla città. È un'occasione che va vissuta in allegria, compattezza e preparandoci al meglio per una grande festa della città. L'idea della partenza Albenga è nata da un'offerta che ci ha dato la regione, ma noi l'abbiamo colta subito al volo nonostante sia un grande sforzo economico e organizzativo. Abbiamo cercato l'aiuto dei comuni vicini perché da soli non potevamo farcela, ma siamo contenti di questo perché interesserà tutto il nostro territorio. Il nostro territorio sarà anche Alassio, Andorra, L'Aigueglia, Finale e Villanova e siamo contenti che loro siano con noi. Albenga ovviamente avrà il ruolo proprio di partenza, però aiutata da tutti. Grazie a questo lavoro di squadra siamo riusciti ad ottenere la grande partenza del Giro anche ad Albenga e quindi ovviamente anche Fior d'Albenga che è un evento turistico di grande rilievo ormai consolidato negli anni ha assunto come tema specifico quello del Giro d'Italia e quindi vedranno anche in questa occasione gli stessi comuni aderenti al Giro partecipi in questa realtà con una propria aiuola sempre a maggior rafforzamento di questo lavoro di squadra del comprensorio che oggi ci vede uniti sul Giro d'Italia, una grande occasione per tutto il comprensorio. Per la nostra realtà produttiva legata ai fiori e alle aromatiche la città sicuramente mi sembra galvanizzata dall'idea di avere la partenza del Giro d'Italia ad Albenga mai successo nella storia di questa grande città e sicuramente sarà una grande occasione per tutto il tessuto anche commerciale che vedrà in questo periodo unito a Fior d'Albenga grandi flussi di persone che verranno a visitare sia le aiuole sia la nostra città e ovviamente legate tutti insieme al Giro d'Italia. Grazie a tutti.